Sarebbe Carridi, sarebbe uno come, diciamo, il nostro Presidente della Camera. Allora, del Senato, immagino tu voglia dire... Del Senato, scusami, del Senato, la russa, il quale non è più fascista. Su questo lo possiamo dire con assoluta chiarezza, perché nessun fascista avrebbe detto delle corbellerie come quelle che dice lui. Lui semplicemente oggi teorizza che il suo punto di riferimento è il Marchese del Grillo. Cioè, praticamente, la russa vorrebbe una Costituzione nella quale si dica che il governo è il governo, la maggioranza è la maggioranza e voi non siete un... Ok, non siamo stati noi a levare il sonoro. Allora, quando noi... Stai mischiando molti discorsi, dimmi l'ultima, poi ricapitoliamo, prego. No, però è un punto importante.